Ehi tu ragazzotto, ti ricordo che ogni sera sono live sulla piattaforma violacea quindi se vuoi consigli, vuoi farmi una domanda o semplicemente vuoi giocare con me sei il benvenuto nel mio canale Ma qua sono io, porco dio E vabbè, tipo, è uno otto, non so, una roba del genere C'è otto in chicco What's up guys, questo è il vostro Naked che vi parla, ragazzi siamo tornati con un nuovo video Signore, oggi vi porto una ricarica di una mia live per farvi vedere la modalità più folle, ragazzi, di Call of Duty ovvero veterano, dominio e shipment erano di quelle modalità che già avevo provato perché ci ho giocato un sacco in World War 2 e diciamo che è rimasto uguale, cioè un macello, il casino più totale c'è gente che ti spona dietro, tu che sponi negli avversari gente che spara le streak e potete capire se avete un elicottero, qualcosa che potete sparare missili in questa mappa fate veramente il devasto io ho fatto uno, era la prima volta che la provavo in Modern Warfare ho fatto un'ottantina, una novantina di chili, sono riuscito a prendere le striche, gli elicotteri che sembrerà banale ma vi posso garantire che qua dentro in mezzo a sto casino arrivare magari a 10, 11, 12 chili di fila non è per niente facile e niente ragazzi io vi lascio al video noi ci vediamo alla prossima sto per sparire stanno sponchilando di bestia cazzo proprio come me lo ricordavo, un casino atroce stanno sponchilando di bestia sponchilando di bestia 3, benissimo, non è giusto non è giusto no, vabbè no, vabbè no, vabbè no, vabbè vabbè porco dio che bordello raga ah come cazzo lo fa porco dio raga c'ho elicottero vitol e tutto ciò ha preso non ci credo sto per fare un bordello vai vai no, vabbè vabbè ma che cosa faccio? vabbè 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 aaa vai che c**o questo Oh No, c'è il Wilson No, non ci credo Sì, vabbè, questo qua, questo cazzo coso, sta sparando ad Minchium, sta facendo una strada Alla, 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 è sparato Alla, canta ando a 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 oh no dai non sto facendo un cazzo porco dio io faccio una roba del genere nel mentre mi ne nascono 7 dietro io sponchillato di bestia figa